Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natasha in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara, appenne. In provincia di Chieti si beve più che nel resto d'Abruzzo e la fotografia sul consumo di alcol scattata dal Dipartimento Prevenzione della ASL nell'ambito del sistema di sorveglianza Passi, finalizzato a stimare fattori di rischio per la salute legate ai comportamenti individuali. La maglia nera arriva nella categoria dei consumatori a maggior rischio, cioè con consumo abituale elevato, sia per assunzioni fuori pasto, sia per unità di bevanda alcolica, una lattina di birra, un bicchiere di vino o un superalcolico da 40 millilitri. Nel territorio della ASL Chieti-Lanciano Vasto, tale comportamento appartiene al 22,8% del campione, a fronte di un dato nazionale del 17,1% e regionale, fermo al 15,3%, male anche per consumo di alcol in generale, almeno un'unità di bevanda alcolica negli ultimi 30 giorni precedenti alla rilevazione e che riguarda il 57,2% del campione contro la media nazionale del 55,5% e quella bruzzese del 47,6%. L'indagine ha preso in considerazione l'abitudine ad assumere alcol nel periodo 2015-2018 in un campione di maschi e femmine di 1.091 unità, estratte dagli elenchi anagrafici dei residenti della provincia di Chieti, dieta compresa tra i 18 e 69 anni. La Giunta regionale abruzzese ha stanziato 51 milioni di euro assegnati dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale per intervenire sull'emergenza post-terremoto 2016-2017, in particolare in provincia di Teramo e l'Aquila, nelle più colpite, cioè dalle calamità naturali seguite a quella dell'Aquila del 2009. I fondi saranno usati per ridare un tetto agli sfollati, ancora in albergo o in casi in affitto per mancati interventi nel patrimonio abitativo danneggiati dal sisma, processo che segna un grave ritardo. In sostanza, con i 51 milioni di euro, saranno acquistate dall'Ater case invendute nei due territori da assegnare agli sfollati, evitando di costruire i cosiddetti SAE, cioè le soluzioni abitative di emergenza, risparmiando i costi dei contributi per l'assistenza alla popolazione e dal punto di vista ambientale, non utilizzando altro suolo. Secondo la stima, saranno acquistate circa 240 case per ospitare un migliaio di sfollati. L'iniziativa, ritenuta dalla maggioranza innovativa, come sottolinea l'assessore Liris, costituisce, tra le altre cose, l'infa vitale, queste le sue parole, per l'economia dei due territori, considerando la crisi del comparto edilizio. Una volta terminata l'emergenza, il patrimonio immobiliare, che da oggi diverrà patrimonio dell'Ater, potrà essere al centro di un grande progetto di housing sociale. Si è concluso con l'istituzione di un tavolo permanente al vertice al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la sicurezza del Gran Sasso. È più vicina dunque la revoca della chiusura del traforo. Nell'immediato, si legge nella nota del Ministero, l'azione di risposta si articolerà su tre direttrici, in attesa che il commissario straordinario, previsto da un emendamento governativo allo sblocca cantieri, possa prendere in mano la situazione, con le dovute risorse e prerogative, per la definitiva messa in sicurezza del sistema idrico. Un protocollo rafforzato di monitoraggio ambientale e della risorsa idrica, che fa capo al Ministero dell'Ambiente una pianificazione dell'emergenza demandata, cioè affidata alla protezione civile, di concerto con la Regione. È un piano di limitazione della circolazione sul tratto autostradale, operato dal concessionario Strada dei Parchi, di concerto con il concedente, cioè con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sui tavoli di confronto, però, l'Abruzzo si fa sentire con una posizione trasversale alle varie forze politiche, contro la chiusura del traforo del Gran Sasso in entrambe le direzioni, sulla 24, annunciata dalla mezzanotte di sabato, dalla concessionaria Strada dei Parchi. Una questione divenuta emergenza nazionale. Viene chiesta la nomina di un commissario governativo con poteri di deroga e la garanzia che da Roma arrivino i 172 milioni di euro per mettere in sicurezza l'acquifero. Il Presidente Marsiglio si indice pronto a ricoprire il ruolo di commissario. Tenuto conto delle previsioni per le prossime ore che vedono un'attenuazione delle precipitazioni, il Centro Funzionale della Protezione Civile ha provveduto ad emettere per la giornata di oggi in Abruzzo un'allerta gialla per rischio idraulico diffuso per le zone costiere e l'alto sangro, in particolare per le province di Teramo, Pescara e Chieti e sulle restanti zone della regione, in particolare sui bacini della Terno e della Marsica. Prevista dunque all'erta gialla per rischio idrogeologico per temporali. Si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporale sulle zone interne montuose con quantitativi cumulati da deboli a moderati e precipitazioni desolate a sparse anche a carattere di rovescio breve temporale sul resto dell'Abruzzo con quantitativi cumulati deboli. Previste inoltre nevicate al di sopra degli 800 millimetri sulle zone appenniniche con apporti al suolo da deboli a moderati. A Pescara intanto riscaldamenti accesi fino al 19 maggio con ordinanza del Sindaco. Comunità e integrazione. Questo è il titolo del convegno organizzato dalla Fondazione Caritas, della chiesa diocesana di Pescara Penne dal Comune di Spoltore per giovedì alle 18 presso la sala consigliare del Comune di Spoltore il primo dei tre appuntamenti in preparazione alla festa dei popoli di giugno, evento che quest'anno festeggerà il decimo anniversario. Si offrirà una possibilità di confronto su un argomento così attuale e urgente e specifica a Roberta Rullo, assessore alla cultura della cittadina adriatica. L'evento proporrà le esperienze di diversi testimoni nell'ambito dell'integrazione. Dopo il saluto del Sindaco di Spoltore, Luciano Di Lorito, interverranno infatti Stefania Maselli, responsabile integrazione e inclusione lavorativa presso il servizio centrale dello Sprarra Sproimi, Don Lucio Ciardo, direttore della Caritas di Uggento, Santa Maria di Leuca, e Khalid Kakar, autore del libro Ho imparato dalle formiche il sogno di pace di un afgano in Italia. La Fondazione Caritas lavora da anni con i comuni del territorio per la gestione del sistema di accoglienza Sprarra Sproimi, racconta Don Marco Pagnello, direttore della Fondazione Caritas. Abbiamo sperimentato, dice, il ruolo centrale del lavoro di integrazione che avviene all'interno della comunità perché, soprattutto nei piccoli centri, si riesce ad attivare una prossimità e una conoscenza più diretta che aiuta ad abbattere i muri e andare oltre i pregiudizi. Tanti gli obiettivi raggiunti, anche grazie alla Festa dei Popoli, che da dieci anni anima il nostro territorio con momenti ricreativi di amicizia e di scambio culturale. Sabato 25 maggio i prossimi appuntamenti, alle 8.30 all'Istituto Alessandrini di Montesilvano un momento di riflessione con gli studenti su buone prassi e modelli di integrazione e alle 18.30 allo Spazio Matta di Via Gransasso a Pescara la proiezione del cortometraggio Frontiera di Alessandro Di Gregorio, vincitore del Davide di Donatello 2019. L'abruzzese Antonio Santilli, 17 anni, di San Benedetto dei Marsi, è il nuovo campione del mondo d'inglese. Per la prima volta nella storia della competizione un italiano a vincere il primo posto. Lo studente dello scientifico Poglione di Avezzano si è imposto nella categoria 4, avendola meglio, su 165 ragazzi tra gli 8 e i 19 anni. Arrivati ieri pomeriggio a Tortoreto i 400 ragazzi provenienti dalle 20 regioni italiane impegnati nelle finali nazionali dei campionati studenteschi di calcio a 5 per studenti di scuole medie secondarie di secondo grado relative all'anno scolastico 2018-2019 in programma dal 14 al 18 maggio a Giulianova. La categoria interessata è quella degli allievi e degli allieve nati negli anni 2002, 2003 e 2004. Oggi è mercoledì 15 maggio e nella diocesi di Termoli-Larino si celebra la memoria dei santi Primiano, Firmiano e Casto, martiri, patroni secondari della città di Larino e della diocesi, festa a Larino. La direzione, la redazione, la regia e tutti i collaboratori di Radio Speranza augurano buon compleanno a Don Amadeo José Rossi e Don Michele Cocomazzi. E siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa cielo coperto fino a metà mattino, molto nuvoloso in tarda mattinata nelle ore centrali, coperto nel pomeriggio e pioggia in serata con temperature da 10 a 13 gradi e venti deboli. Nelle zone interne cielo molto nuvoloso fino a metà mattino, coperto dalla tarda mattinata a metà pomeriggio e pioggia nel resto della giornata con temperature da 10 a 12 gradi e venti deboli. Il mare è previsto da quasi calmo a poco mosso. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natasha in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne, grazie e risentirci.